Ripatti con le tradizioni e con la bontà della cucina casareccia, con una vasta scelta di antipasti, primi e secondi, tutti di rigorosa produzione propria. Ripatti, lo trovi in via Giuseppe Licata, 49 a Sciacca. Ti aspettiamo. Avviata la stagione a Sciacca Mare, sono arrivati i primi turisti, siamo con il presidente di Aroviaggi, Marcello Mangia. Presidente, una stagione tanto particolare, però voi ce l'avete messa tutta per aprire oggi il primo albergo. Sì, sarà un'altra stagione particolare, speriamo migliore di quella passata. Noi ci crediamo, abbiamo aperto, abbiamo un centinaio di clienti, sono tutti contenti. Peccato che da lunedì si complica, perché purtroppo essendo in zona arancione non è previsto lo spostamento tra i comuni, dunque purtroppo avremo un calo vertiginoso ovviamente di prenotazioni e probabilmente andremo a chiudere qualche giorno. Però anche in funzione del triathlon del 27 marzo saremo aperti in quel periodo e abbiamo un buon numero di clienti, anche se devo dire che molti clienti, molti partecipanti al triathlon hanno scelto alberghi a Sciacca, centro. Di questo sono contento perché lo scopo proprio del triathlon, questo evento internazionale, era portare un po' di beneficio a tutta la città. Dunque siamo soddisfatti. Speriamo dal 9 aprile di ripartire a tutta velocità anche con i turisti stranieri. Quanto sarà difficile per il triathlon riuscire a garantire tutto e a svolgere la manifestazione in un momento difficile come quell'attuale? Allora, la gara in sé per assurdo sarà facilitata perché essendo ridotta la circolazione dei mezzi, avendo noi comunque ottenuto la chiusura della strada, a livello tecnico non c'è nessun problema. Questo triathlon è una gara di interesse, è stata riconosciuta una gara di interesse nazionale, dunque chiunque si può spostare anche dall'estero, e ci sono degli atleti stranieri, si possono spostare per recarsi sul luogo della gara. Dunque da questo punto di vista il triathlon è stata l'occasione per lasciarci aprire anche nel weekend del triathlon. È chiaro che questo è il primo anno perché noi abbiamo firmato per un ciclo di tre anni su questo triathlon, è chiaro che le presenze, le iscrizioni sono state fortemente condizionate, però devo dire che grazie agli sponsor, al nostro intervento, abbiamo comunque voluto mantenere la gara, anche se economicamente è uno sforzo abbastanza pesante, e devo dire grazie anche alle amministrazioni di Sciacca, di Menfi e Casselvetrano che hanno fatto di tutto per far sì che questa gara si svolga. E per il resto come procederà la stagione? Quando supereremo, ci auguriamo, questa zona arancione, quindi dopo Pasqua come vi apprestate a ripartire? Allora, noi faremo tutto il possibile e siamo pronti a partire come lo scorso anno col mercato interno. Già il 9 aprile abbiamo un gruppo abbastanza importante che ha prenotato, diciamo, ci ha bloccato le stanze, perciò sicuramente saremo aperti su questa struttura del Torre del Barone. È un gruppo che viene a fare il paddle, questo sport che piace tanto in questo momento e dunque partiamo dal 9 aprile e contiamo di restare aperti. Ora progressivamente apriremo anche le altre tre strutture di Sciacca Mare per completare la fase di apertura, speriamo, entro fine maggio. Molto dipenderà, inutile dirlo, dalla campagna dei vaccini, dal calo dei contagi che potrebbe significare una ripartenza veloce. Penso si possa ripartire molto velocemente. Voi avete riaperto in sicurezza, come più volte sottolineato, anche con i tamponi dei vostri clienti? Sì, abbiamo fatto una scelta anche da questo punto di vista di massima sicurezza. Noi omaggiamo, facciamo gratuitamente il test rapido, abbiamo fatto a tutti i nostri dipendenti ovviamente e lo facciamo gratuitamente a tutti i clienti che lo vogliono fare, perché ovviamente non li obblighiamo. È anche lì uno sforzo economico, ma pensiamo che in questo momento la sicurezza, la garanzia di passare una vacanza serena sia la motivazione principale per scegliere le nostre strutture. Chiaramente aspettate i turisti dalla Francia e quindi come si evolverà la situazione a livello internazionale, visto che il mercato francese ha sempre rappresentato il vostro principale bacino. Sì, ormai l'anno scorso ci siamo abituati a essere super flessibili, dunque sì, aspettiamo i clienti francesi, sappiamo però che il turismo straniero inizierà gradualmente da fine aprile, in questo momento il nostro più grosso cliente che è Tui ha confermato i primi voli charter dal 23 aprile. Sicuramente avremo una forte presenza di mercato italiano e siamo preparati a questo. Per concludere, per un imprenditore quanto è difficile questo momento, dare una risposta, a rapportarsi anche con i propri dipendenti, chiaramente voi avete anche molti stagionali e quindi anche l'evoluzione della situazione relativa alla pandemia dipenderà, da questa dipenderà anche il lavoro che riuscirete ad offrire. Sì, assolutamente, è il nostro primo pensiero, lì non lo voglio dire, non lo dico per fare un gesto di piacioneria, ma obiettivamente queste aperture sono dedicate a loro, ai nostri dipendenti, perché comprenderete che aprire una struttura come questa, con 100 clienti che fanno una notte, è sostanzialmente solo dedicato a ridare una speranza, un segnale positivo a tutto il settore, ma una speranza ai nostri dipendenti. Tra l'altro noi cominciamo lunedì un corso di formazione dove abbiamo investito tanto, per 15 giorni qui avremo circa 200 addetti in preparazione alla stagione che formiamo. Dal 22 marzo arriveranno anche dei grossi nomi alla ristorazione, abbiamo Gennaro Esposito, lo chef stellato, Zaccaria, pure uno chef stellato, Angè, Nicola Fiasconaro, Peppe Giuffré, il nostro caro Giovanni Montemaggiore, una sfilata infinita di grandi nomi alla ristorazione che vengono a formare le nostre squadre di cucina, allo stesso tempo si formano le squadre del ricevimento, l'animazione, l'intrattenimento, il bar, abbiamo dei grandi barman che vengono a formare il nostro personale, è un momento importante, anche qui stiamo investendo tanto come azienda per pensare a un futuro migliore per tutti, per i nostri dipendenti e per le nostre strutture alberghiere.